Mi ha mancato un paraspiso, venghi. Eh già, buonasera ragazzi, oggi vi faccio vedere questo nuovo giochino che ci giocavo il tempo fa. Giochino per metalloidi. Cioè non è un giochino per bimbi minchia che ascoltano musica neomelodica. No per niente. Questo è un bel gioco. Ma nel senso bello realmente. No, un giochino per l'appunto per bimbi minchia. No, un giochino per l'appunto per l'appunto per l'appunto per l'appunto. No, un giochino per l'appunto per l'appunto per l'appunto. No, un giochino 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 per l'appunto per l'appunto. No, un giochino per l'appunto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come avete potuto notare questo non è un gioco adatto ai bimbi minchia. Quindi ragazzi, non fatevi illusioni. È un bel ritmo game, però non adatto ai bimbi minchia. Alla prossima.